Salve a tutti ragazzi e bentornati dai show show, siamo tornati su Brawl Stars E questa volta sarò io ad aiutarvi perché la community è venuta in mio soccorso quando ho dovuto recuperare il mio account Mi sono ritrovato in mano questo account qua, cioè ragà sono tutti bustati E ragà becco solo gente rankata, gente veramente sta con l'asciugamanino E allora oggi ho deciso di fare qualcosa Abbiamo chiamato in soccorso un amico che ci aiuterà, ci insegnerà a giocare Ma intanto io invito il buon Jumpy Buonasera Che non ci sono, buonasera, ciao Senza di lui non avrei ripreso il mio account, quindi diamo il benvenuto a Sparks Ciao ragazzi, ciao Mike, ciao Jumpy Buonasera, buonasera lei capo supremo Ti hai messo un botto di pressione con il problema che ci dirà tutto Ma l'hai voluta te, l'hai voluta te Quindi ragazzi oggi facciamo noi qualcosa per voi perché in tanti magari possono essere al nostro livello Non sanno qual è per esempio i brawler più in meta, quale scegliere No io mi sono trovato ragà con gente che manco ho mai visto, non ho manco mai sentito Ma che è sta gente qua? Quindi oggi Sparks ce lo racconterà, ce lo spiegherà e soprattutto tecniche, segreti, trucchetti Allora io vorrei fare la ranked, così vi porto già in classe Eeeh, addirittura Penso di non aver mai cliccato ranked in questo gioco Ragazzi l'ultima volta che ho citato io non erano neanche nei pensieri le ranked Esatto, non esistevano E allora ragazzi, prima di iniziare una cosa Intanto occhialini da gaming, così almeno ce vedo, almeno vedo quello che sta a fare Se questo video supererà 30.000 mi piace Visto che ho capito che l'andazzo è quello Prossimo video di Brawl Stars con il turbante Asciugamano e turbante Allora, le ranked vogliamo fare? Quindi non incontriamo i mostri finali o sì? Allora no, quindi abbiamo la categoria bronzo, argento, oro E noi partiamo da bronzo Quindi in teoria becchiamo solo persone che hanno appena iniziato la classificata Oh, mi interessa Ma cosa sono tutte queste cose che ti luccino? Beh, con l'overdrive, guarda lì Ah, l'overdrive, perché non avete overdrive voi? Perché ora che è overdrive, ma noi già tanto ci abbiamo le dita per giocare, dai Ma anche su che cos'è l'overdrive, frate? Ma infatti, non so manco che è l'overdrive Vabbè, è una skill che hanno aggiunto da poco Oltre alla ulti hanno messo anche l'overdrive Diciamo un bonus extra nelle cose, negli attacchi Allora, Gian Piero, ecco perché ci spawnano tutti Perché magari ci hanno tutta sta roba Io ce l'ho un paio di brawler con l'overdrive Esatto Ad esempio, se tu clicchi sull'overdrive E ti dice cosa fa quell'overdrive Fammi vedere che fa questo frutta e furia Io non è invisibile mentre faccia i nemici Sì, frutta e furia Frutta e furia Frutta e furia L'hai messo in carica il telefono prima di iniziare a registrare Allora, sì, ma c'ho poca memoria Quindi ragazzi, iniziamo a questo video Hai cancellato le cose Sì, sì, sì Allora ragazzi, facciamo sta classificata Va bene, mi piace Chi ci consigli? Esatto Che brawler possiamo mettere? Allora, non vi posso consigliare un brawler ora Perché in pratica nella classificata funziona così Inizia la partita e bisogna scegliere il brawler Non appena lui ti trova una mappa Ah, ti brawler In pratica dal diamante in poi non posso andare Non posso meccare con quelli più bassi Ah, ma allora sai che dimmi Prima di quest'ultima stagione era un mito Eh, però adesso è ricominciata la stagione Quindi sei bronzo di nuovo Oh, minchia Dimmi, raga, stava un fire Dimmi, tra yard Dimmi, tu tra yardavi come un pazzo Certo, con i soldi degli altri sono tutti bravi Vabbè, però ci avrà speso qualcosina Dai, ci aveva il pass Oh, nuovi orizzonti Non so neanche che cosa sia Allora, qui potremmo prendere Angelo, se ce l'avete Leon, io Leon ne me lo prendo, mio Ma che ho 4 secondi Sempre lento, sai Eh, sì, è vero, aspetta Non so come se È Iris, l'ho preso L'ho preso Vai, scelto, scelto Vai Io ho messo una a casa Perché stavo guardando per voi Non ho visto il mio, quindi vai Ok, Iris che cos'è? Non sappiamo Ma che tipica è questo bombardino? Allora, Iris deve stare molto lontano Ah Ed è un tiratore, diciamo Ah, ok Diciamo così Vabbè, non lo sappiamo Per cui Uh, ma che è sta storia? Guarda che roba Ma che Leon non me lo Scusa, ma chi vince qui? Sono morto, dimmelo prima, cazzo Benissimo 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 Stiamo 1-1, dai Però ho fatto una kill Quindi sono morto non in vano, ecco Come si è fatta una kill? Ho fatto una kill, te lo giuro, frate Eh, scusa La ulti che fa del mio? La ulti in pratica rilascia la testa Che è telecomandabile E ciò ce l'hai fatto brutto L'hai ammazzato Come ho fatto a ammazzarlo? L'hai ammazzato, sì Boh, vabbè, vabbè, va bene Numero 1 sei Aspetta, allora vado a far kamikaze Voglio far kamikaze Vai, vai, pusha la ulti Usa la ulti Aspetta, aspetta che la metto Quando io sto avvicino Boom No, ma ti puoi mettere anche lontano Perché in pratica la puoi telecomandare, capito? Ah, ok, ok È tipo un razzo telecomandato Come tipo Fortnite? Che c'entra Fortnite? Mazzà, però questi sono scarsi veri rispetto a quelli È un battle royale Rispetto a quelli con cui ho giocato io ultimamente Nelle partite Questi sono veramente Detere me Ma com'è possibile? Le vi persugo Ma io sono morto per fuoco Guarda, guarda, ho lanciato la testa Ah, è ragazzo, ti ho comandato, è vero Aspetta, aspetta Esatto No, ho sbagliato, cavolo Ma è fighissimo Ma è fighissimo Ma quel personaggio che sto usando me Che è pazzesco, posso dire Ma infatti, ma è una bestia Ma è una bestia veramente Ma è una bestia È zero morti Sì, io pure è zero morti Ti stai divertendo Sì Allora, consigliamene uno Un altro Sennò mi riprendo sto Iris Che mi sembra abbastanza affascinante Larry ce l'hai? Ce l'ho tutti Larry, di frattare, nascondiglio Larry è forte Larry Qua puoi mettere Leon di nuovo Iris di nuovo Leon lo ho io Ma sembri più Iris, ragazzi Perché Mi sembra giusto No, sì, stai vendendo di Cristo Cioè, sei andato bellissimo Ok, che bisogna fare in questa modalità? Questo è ricercato Quindi in pratica Ah, ok Citi per E più punti fai Ok, ok Oh, questo c'ha Poi risponiamo, vero? Sì Giampiero, questi sono Fai un team deathmatch Questi sono scandalosi, eh Questi sono scandalosi, Giampiero Guarda che ne sa che sono scandalosi Ma come no, che ne so Guarda, ci hanno cosa? C'hanno Guarda che ha già messo in la cuscia Ma hanno resuscitato coso qui Come si chiama? Frank 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 Oh, Mike Shosha Giù, giù Aspetta, questo È il primo Aspetta, questo vado a prendere Boom No, ma ho ucciso lui o io a lui? Non lo sapremo mai Mamma mia, come ho pushato Frank L'ho killato Nella tua base Ok Eh, Giampiero fa kill Mamma mia Giampiero è un assassino Guarda questo come se ne va Allora Mike Fai attenzione quando usi la ulti Eh, perché il corpo rimane fermo Perché quando fai Il razzo telecomandato Il tuo brodo rimane No, ma ho messo Me ne vado Mi metto qua, guarda Esatto E la lancio Ok Aspetta, aspetta 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 che ne vi ho due Boom Ma non uccide però, eh L'hai preso in pieno? Sì Però Eh, allora probabilmente Non fa una hit così enorme Da distruggere Una hit importante Pazzo però quanto va a prende questo, eh Cioè questa va proprio lontanissimo Anche se raggiunge la sua Diciamo Boom Eh, questa volta sì, eh Stavolta sì, eh Stavolta l'ho squagliato Bravo, bravo Sparks 12 a 20 Però loro c'hanno 6, eh Come mai? Hai presente le stelline che c'hai addosso tu? Se loro ti killano Quanto 4 punti Ah, ok, ok Ah, ok, ok Quindi più killano gente con stelline Più punti fanno Ah, e minchia Conclusa Eh, mi hanno ucciso alla fine con 4 stelline Oh, oh, ragazzi Ragazzi, guardate un po' Zero morti Eh, però, Giambi 5 kill, eh Eh, 5 kill Se tu faccio il kamikaze non posso uscire Eh, capito, Giambiero Vai tranquillo Tranquillo Oh, adesso se sale Se sale nel passo, eh Se sale nel passo Guarda, tu, 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 tu Esperienza a stricca Oh, mi sta a piacere sta Ranked Eh, lo devo fare prima Quindi adesso che possiamo prendere Sparks Ma qui l'ion sempre Ok Poi il sendy Oppure stecca O l'era Decidi tu Io prendo stecca Che stecca para per tutti Do sta stecca? Oh, io c'ho stecca ignorantissimo Ah, il mio stecca Sinistra Eh, io a destra per forza E che si deve fare? Goal Ah, gollo, ok Io non sto capisco Invisibile Invisibile Goal, goll Giambio Mamma mia Mamma mia Mi sembravi Cristiano Ronaldo Dei tempi loro Mamma mia Ma che so Ma che ci ho fatto Ma che do me Come io ho messo Mamma mia Stavo alla Sparta Io sto sto uccidendo Come un caimanoleso Mi sento un ore di doppietta Questa golla Questa golla Ma su cacciamica Boom Così Ma che pare Ma che aveva un beccato C'è Uicchia Pietro Ok, questa è la dinamore di prima K.O Bello, bello Quindi Giambi, mi raccomando Può mettere Colt Non lo so Però comunque È tutta gente che spara da lontano Non mi è parso di capire Cioè il meta è quello Sì e no Sì e no Ah, questi sono delle Giampiero Dai, guarda qua Cioè, sono proprio Hanno iniziato ieri a giocare questi Su Un po' come noi Eh, su, appunto E guarda come li squaglio Bravo Giampiero Bravo Giampiero Mamma mia Insomma Abbiamo perso Mike Come ho fatto a morire Ma non mi hanno colpito No, Mike Chosha ti sei fatto Ti sei fatto un quale Ma come è possibile Io non ho visto Aspetta Eh, neanche io Neanche io me ne ho Giampiero che pusha Giampiero che pusha Giampiero sta arrabbiato Un professionista Pusha da invisibile Ma chi sono io? Giampiero sta arrabbiatissimo Eh, Stonefire, sì Stonefire Stonefire Come il Prime No, fai chi barda Eh, doveva morire Scusi No, vabbè Ma raga Manco Cioè, manco A far così Però Ma Mike Chosha nemmeno si è spavolato Praticamente Non ho fatto niente Nella partita Non ho fatto niente Ma come è possibile Attenzione Bronzo 2 Bronzo 2 Eh sì E ci si promuove E ci si promuove ragazzi Ci si promuove E lo star drop Perchè non è stato promosso Perdonami Eh, che te devo dire? Eh, solo una pippa al sugo Come hai fatto a non essere promosso? Forse sai perché? Perché mi sa Che tu hai fatto La ranked Lo scorso mese Quindi hai il gusto No, no Mike Cioè, non Mike Ma dimmi Attenzione ragazzi Classificata Premio per la promozione Tocca per aprire Ok Bling 100 100 bling Ma che ci faccio Questi bling No, che scam I bling servono a comprare Cosmetici Cioè, vai nel negozio Ti puoi un rossetto Ma compro un rossetto Esatto Ma che cazzata Ma che è sto schifo No, puoi prendere Poi prendere le skin E le reazioni Ma che minchiata Arraggerebbe Questo è importante Vai Che prendiamo Allora Piper ti va? Tu di jumpisi Ma vabbè Però lui Quello è un fenomeno Attenzione Non me lo Oh, signor Pietro Torna indietro Ah, ma lui c'ha corvo Minchia Maledetto Il corvo Questa fammi prendere L'ultimo Che poi siamo invincibili Ragazzi Mamma Però la mia Non so come Ma fa malissimo No, ho fatto una stronzata Scusate Scusate Ho fatto proprio una minchia Allora, a un certo punto Io caricherò l'ultimo In pratica Io posso grabbare I nemici E portarli vicino a me Quello si è salvato Quello si è salvato Eh, ma no però Bravo Bravo Ma non lo so Eh, non si dice No zio porco Eh, non si dice Aspetta, io mi metto un attimo al sole Che sto Si Ti ha tirato quello Per genio Non era quella roba Lo so Per genio Perché mi so Non ho capito Sono senza gem Raga Eh, spazio quello Da uccidere E io pure C'è una tre Però, eh Uh Io pure ne so Fatti qua, eh No, no Non saltare lì Lì, là No, no Giampiero Perché La torretta Non finire la mia ulti Ma che ne so Che sto Cosa spinge Sì, vai Gli tira un po' Dei bombaroli Oh, ma Gli son dato dentro casa Gli son dato dentro casa Giampiero Gli son dato dentro casa Aiutatemi Eh, no Sono morto per il veleno Devi sentire calda, eh Eh, sono morto per il veleno Piglia tutto Piglia tutto Piglia tutto Arrassolge tutto Arrassolge tutto Arrassolge tutto Arrassolge tutto Arrassolge tutto Arrassolge tutto Ho fatto una mossa azzardata Ma Oh, te li sta a portare Intra casa Ma vai Ma giampiero come Madonna Giampiero come sparecchia Giampiero come sparecchia Che giocatore Un professionista Un professionista È stata bella Pro player Pro player Pro player Pro player Poi mi sono ripreso All'ultimo, però Abbiamo sofferto un po' Perché in pratica Ci voleva uno Che faceva più danni No, vabbè Noi c'ho l'over Allora, hai l'ult Che si ricarica in automatico Quindi se tu stai un po' Fermo senza farti hittare Ricarica l'ult E poi fare dei salti Che jump in testa i nemici Ah E li pigli subito Eh, però qua Tutti che sparano da lontano Quindi Bravo Sparks Bravi ragazzi Bravi Quei bravi ragazzi Io non so Vedi io Sto a camperà Io mi sto chiaramente a nascondere Ma chiusa Vado Mi fattaci sua No, io sono Gli ho regalato I primi due kill Gli ho regalato Barilotto De me Scusate No, no, no Eh, ma c'ho La sentire calda Sì, ma non me l'ha data A me la kill Incredibile Vieni qua Nanno malefico Via, via Noo L'hanno fatto Sei stelle Che ho dato Boom Signor Mike Ho fatto fare il Uh, eccolo so io Ecco l'overdrive Ho usato l'overdrive Eh, povero mi sono andato a ammazzare No, 18, 17 Occhio, occhio 17, 17 18, 18, 18 Uh, che bucio Non c'è la macchina Non c'è la macchina Che bucio Io ho fatto schifo ragazzi No, ma devo conoscerli I giocatori Se no, non gioco bene Infatti questo bravo che c'hai tu Ti ho detto È un po' Dei stare da vicino È toxic come brawler Lo mettono tutti Toxic È uno di quei brawler Che in pratica Ne voglio uno Ne voglio uno super meta Ne voglio uno super meta Allora, non ciò ti domanda Ti piace più da lontano Ma in realtà Non lo so Io ero un grande giocatore con Frank Ma ho capito giocando che No, Frank è fuori meta ora Sì, sì Non è il momento Però scusa Per farlo salire di livello Il brawler Devi fare le partite normali però No, di livello Servono i punti di energia Ah, è vero Di scioppa Le partite sono le coppe di danno Vado io adesso Così hai tutto lo spazio in pratica Ah, sì Che Bello Mazzata arriva lontano questa Poi tra l'altro Non davo per scontato Che Iris sia maschio O femmina Femmina Om Fatto fuori il tizio Ma li andiamo a pusha su O aspettiamo un po' Troppo su no Però li possiamo pushare in alto Perché così Gli diamo problemi Mazzata bello Aspetta, aspetta Faccio una cosa Aspetta e ti faccio una cosa Per te qua Aspetta Se ti libero un po' Bam Lo sono andato a cercare Boom baby Bye Boom baby Bye Aspetta che questo Aspetta Io non devo pushare C'hai ragione C'hai ragione C'hai ragione Sono andato un po' Troppo avanti E' Corvo Quello Vieni qua O lo sto andando a prendere in base Questo Mamma mia L'ho preso in base Lanciamo il drone Il Frank avversario si è arreso No Il Frank l'ho L'ho preso in base E si è messo a piangere Secondo me Eh pure secondo me Oh ma frate Oh ma può pushare No dai Ho fatto una morte Su pezze me Da ridamme la vita No c'è Piero Sei un ladro A rubare Ti posso dire che sto Stairis è forte vera Però vedi Non so se sono scarsi Gli avversari O siamo forti noi Non lo so eh Una strategia Per vincere Quale potrebbe essere In generale Indipendentemente Dalle modalità Cioè quello di In ogni partita C'è sempre una Diciamo uno schema Che sono da mettere Due brawler in lane E un brawler mid Cioè al centro Ok Infatti ci sono proprio Dei brawler fatti apposto Per la lane E un brawler fatti apposto Per il mid Una volta detto Di schieri Un mid E due lane Diciamo riesce a controllare Le lane E il mid Che è il centro Diciamo Riesce a controllare Tutta la partita Già Ah un po' Con il controller I rimbalzi Controlla la partita Ah ma tu zitto zitto Però c'è pure Scudi e cazzi vari Gian Piero bravo Ma guarda che il mio No 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 Stefan non risponde Dai questi sono scandalosi Ah no c'è un Un oro Che cos'è Un oro Tra l'oro Vabbè però lui è Cioè scusa Un oro che becca I bronzo I bronzetti Eh mi sembra un po' Too much Occhio a Mortis Mortis mi si scova Mamma mia Mortis è il male assoluto Eh mamma Eh pure spike Masuka Mamma mia come Io ho messo la Dove non batte il sole A quello Un professionista Gian Piero Bravo Gian Piero Occhio Lady Sparks Cioè lui c'ha Mortis Che sta nascosto Lì attento Attento Gian Piero Eeeh Vai mazzalo Ah no è il vault Buona Cazzo era lei Io sto giocando Con le mochi No si Qui by side No vaffanculo Chi l'ha Chi l'ha ucciso Mortis Io Bravo Gian Piero Io o lei Ho spazzo Qualcuno Vuole le due Dai piedolo da là dentro E che ci va Sì Non c'ho manco la ulti Minchia Piper Io tipo non l'ho dovuta Usare proprio C'è troppo precisione Ci vuole Adesso non c'è Ma sta a salì Il vento qua Escureggio Eh si si Vieni 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 Bello Bello Stupido Vai a casa A casa Oddio 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 Ma hanno appena fuggiato Mortis Qua Mi ha messo al curo L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso Io mi sa Però Va bene Va bene L'importante L'importante Vado a prendere Vai 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 Dai dai Due contro uno No Vabbè Ma smarcato come Cristiano Ronaldo Ma smarcato come Cristiano Ronaldo Ma smarcato Vabbè però gli ho levato Dalla disponibilità Allora da vicino Lo distruggeresti Sì Gli vai come attaccato Vai sentite la calda Non so dove sta Meno male Meno male Pensavo che era tutto sulle mie spalle Invece no dai Il migliore Il migliore Il migliore Allora ragazzi Abbiamo arrancato Premio Bronzo 3 siamo Oh nuova icona giocatore Sembra bella Miglioreremo Miglioreremo presto Grazie a Spax Grazie a Jumpy Ma soprattutto a Spax Per essere stata La mia compagnia Grazie per averci insegnato Le tecniche più oscure Di questo gioco C'è tanto da imparare Giusto Sicuramente avremo fatto Un video insieme Grazie Gian Piero Saluto a tutti Alla prossima Ciao ragazzi Ciao